La Campania, questa immagine che vediamo, è della splendida grotta azzurra di Capri. Questo è il simbolo della Campania, vediamo la carta d'identità. Lo stemma è costituito da una banda, cioè da una striscia, da una fascia, rossa, su fondo bianco, che ha la forma di uno scudo. Riprende quello della Repubblica Marinara di Amalfi, che forse avete studiato o studerete fra poco in storia. La popolazione della Campania è di poco meno di 6 milioni di abitanti. La superficie è di 13.000 km2. La densità è 423 abitanti per km2, che è una densità molto alta. Vuol dire che ci abita tanto gente in rapporto alla grandezza della regione. Il capoluogo è Napoli, le altre province sono Caserta, Vellino, Benevento e Salerno. I confini. Vediamo la cartina. La Campania confina è bagnata a ovest dal mar Tirreno. A nord ci sono il Lazio e il Molise. A est invece ci sono la Puglia e la Basilicata. Basilicata è anche a sud-est, diciamo. Il nome. Alcuni fanno derivare il nome Campania dal latino campus, che significa pianura, parola che indicava un tempo il territorio della pianura di Capua, che è una città che è a nord di Napoli, e i suoi abitanti, detti capuani. Da Capuani è derivato poi il nome Campani. Le province. Le abbiamo già nominate prima, vediamo qua come sono collocate. Vedete che per estensione la più grande è la provincia di Salerno. Vedete anche in basso nella cartina che la regione Campania si colloca nell'Italia meridionale. Il territorio. Le montagne occupano la parte orientale del territorio, mentre le poche pianure si trovano lungo le coste e lungo i corsi dei fiumi. Vedete la pianura campana a nord e più a sud invece c'è la pianura del Sele. Infatti dice che le montagne appartengono all'appenino campano, mentre le principali pianure sono la pianura del Sele e la pianura campana. Quella più a nord intorno a Caserta, Napoli e Capo è la pianura campana. Quella più a sud è la pianura vicino a Pestum e la pianura del Sele, che è un fiume. Vediamo percentualmente come è fatto il territorio. Il 50% è montuoso, quindi la maggior parte. Il 15% è collinare. Il 35% è pianeggiante, più o meno. Le idrografie, cioè i corsi d'acqua. I fiumi principali della campagna sono quattro. Sono il Volturno e il Sele, che sono ricchi d'acqua grazie alle loro sorgenti carsiche. Li vedete lì nella cartina. Il Volturno è a nord, il Sele è a sud. Poi ci sono anche il Garigliano, al confine con Lazio, e l'Ofanto, che qui non è riportato però. So che va anche in Puglia, quindi deve essere nel nord-est l'Ofanto. Il clima. La maggior parte della campagna è un clima mediterraneo, con estati lunghe e calde, mitigate dalla brezza marina, e inverni miti. Tale clima è dovuto anche alla presenza degli appennini, che proteggono la regione dai venti freddi. Le aree montuose dell'interno sono invece caratterizzate da inverni lunghi, rigidi e nevosi. Il lavoro dell'uomo. Quanti sono gli occupati per settore? Nell'agricoltura, nel settore primario, lavora circa l'8% delle persone, il 21% nel settore secondario e quasi il 60% nel settore terziario. Purtroppo però ci sono anche un 16% di disoccupati, che è un dato abbastanza alto. L'agricoltura. La campagna ha il primato per la produzione di ortaggi e della frutta. Sono famose le nocciole di Avellino e le noci di Sorrento. Sono coltivati anche il tabacco e la canapa. All'interno, verso l'appennino, si coltivano solo cereali, patate, legname e castagne. Molto diffuso l'allevamento dei bovini, soprattutto delle bufale, dal cui latte si ricava la famosa mozzarella di bufala. E' praticata inoltre anche nel martirreno la pesca. L'industria. Tra il 1950 e il 1980 si ebbe un potenziamento del settore industriale. Si stabilirono allora, o si rafforzarono, importanti industrie di base e meccaniche. Rilevante è anche l'industria alimentare, con caseifici e fa il formaggio, pastifici, fanno la pasta, oleifici, conserve, vini, formati da stabilimenti di medie dimensioni. Avellino è un polo dell'industria conciaria, cioè della lavorazione delle pelli per fare le scarpe e vestiti. La regione ha una tradizione anche dell'artigianato. Turismo. La regione è ricca di beni artistici, archeologici e paesaggistici, che alimentano il flusso dei turisti, per cui c'è molta gente che vada in vacanza. Tra le mete di maggiore interesse ci sono gli scavi di Pompei, la reggia di Caserta, che vedete sulla destra, i campi Flegrei e il Vesuvio, il vulcano che c'è vicino a Napoli, le isole di Ischia e Capri, se non sbaglio quelli che siedono là in fondo sono i farglioni di Capri, quindi quello sulla sinistra è un'immagine che riprende Capri, e la costiera amalfitana. Il capoluogo. Napoli si estende lungo l'omonimo golfo, cioè nel golfo di Napoli. Vedete infatti là in fondo il Vesuvio. Tra mare e colline è stata capitale del regno delle due Sicilie e del regno di Napoli. Oggi è una città in bilico tra sottosviluppo cioè tra problemi, tra povertà e modernità. È la terza città d'Italia dopo Roma e Milano, il principale porto d'Italia per movimento di persone, uno dei maggiori centri culturali, ha una nuova metropolitana e ha il fascino di monumenti carichi di arte e di storia. Tradizioni. Le principali tradizioni di Napoli sono il gioco del lotto, la smorfia, che è una sorta di dizionario in cui a ciascun vocabolo, persona, oggetto, azione, situazione, eccetera, corrisponde un numero da giocare all'otto. Poi c'è il presepe, la festa della Candelora, che è una festa religiosa che si celebra il 2 febbraio e che prevede una processione a benedizione delle candele, e la festa di Piedigrotta, che è un festival canoro che si tiene l'8 settembre. Nelle immagini sotto, oltre al presepe napoletano, vedete anche un'immagine del carnevale, un'altra tradizione che non abbiamo messo nell'elenco sopra. I piatti tipici. La Campania può vantare una delle tradizioni culinarie, cioè delle tradizioni di cibo, di cucina, più antiche, oltre che più ricche dell'intero panorama gastronomico mondiale, cioè, in parole semplici, sono bravissime in cucina. Patria non unica, ma certamente prediletta della dieta mediterranea, della pizza, delle salse di pomodoro, delle paste alimentari e del gelato e dei dolci, aggiungerei io, perché sulla destra sono riportati, c'è un dolce a base di babà, oltre che di molte altre specialità gastronomiche oggi conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Finito.